Posso descrivere la giornata di oggi con un solo aggettivo, illuminante. La giornata di oggi ritengo di dire che si è stata molto formativa, ci ha dato informazioni in più per immergerci in quello che sarà poi il gioco alla scuola. La giornata di oggi è stata particolarmente utile sia per ascoltare delle testimonianze appunto di gente già inoltrata nel mondo del lavoro, ma anche per scoprire dei nuovi mezzi appunto per arrivare agli ambiti lavorativi come ad esempio la spiegazione su LinkedIn che era una cosa che personalmente non conoscevo bene. Mi ha insegnato cosa cerca il mondo del lavoro, so di essere più consapevole, su cosa devo migliorare, cosa devo migliorare? Devo migliorare le mie soft skills. Non mi sento ancora pronto ad entrare nel mondo del lavoro perché sembra ancora appunto una dimensione molto distante da quella che si dipende in questo momento. Mi sento pronto ad entrare nel mondo del lavoro perché voglio di mettermi in gioco e di scoprire nuove cose in ambito lavoro. Non mi sento pronto ad entrare nel mondo del lavoro, ho ancora un po' di idee compito e c'è un po' di paura. No, non mi sento pronto perché penso di dover maturare ancora dell'esperienza. Dopo la maturità avrei intenzione di fare dei concorsi per le forze armate, però non nego che l'opzione dell'università non la sto mettendo da parte. Dopo la maturità sicuramente mi iscriverò all'università, penso di voler fare economia. Dopo la maturità già so che mi iscriverò all'università. Ho quasi deciso, vorrei fare medicina per poi fare chirurgia plastica. Vorrei fare Oceans e la comunicazione appunto per diventare giornalista sportiva o social media manager per lavorare nel mondo della Formula 1 Motorsport.